Raccolgo davvero tantissime vostre segnalazioni e sono felicissimo. Vi ho chiesto di mandarmi foto, video, proprio per accorciare i tempi in modo che rendo pubblica la problematica e contemporaneamente posso affrontarla nelle sedi comunali competenti. Quest'oggi voglio parlarvi attraverso queste immagini che un amico, una persona di Talzano mi ha inviato, la situazione di Talzano soprattutto ma anche di Lama relativamente ai lavori di Acquedotto Pugliese. Quando vengono sistemati o risistemati i tombini guardate tutto intorno come viene messo il catrame? Si rappezza tutta la parte intorno al tombino ma in questo modo si indebolisce sensibilmente il manto stradale. Oltretutto i tombini si trovano al di sotto della superficie e quindi i tombini non sono livellati al manto stradale e di fatto rappresentano una vera e propria buca. Allora cari signori dell'Acquedotto Pugliese quando si fa il lavoro non ci si limita a mettere l'asfalto proprio intorno al tombino e basta ma va rappezzata, va rifatta la strada, il manto stradale in una certa misura congrua stabilita dalle normative proprio per assicurare la stabilità della strada stessa. Altrimenti quei rappezzi con la pioggia, con l'acqua tendono a sprofondare e come dire rendono la strada, dicevo, rendono il manto stradale l'asfalto debolissimo, lo indeboliscono, lo rendono ancora più vulnerabile di quanto è. Perché viene fatto, ripeto, il minimo indispensabile, proprio la linguetta, la striscetta, il cerchio come asfalto intorno al tombino. Invece bisogna rifare quel pezzo di manto stradale nelle misure stabilite dalla legge. La legge impone i due terzi della carreggiata. Non dico i due terzi, ma almeno, viva Dio, non vi limitate per cortesia a fare la leccata di asfalto, quella striscetta di asfalto. E quindi a questo proposito c'è anche da dire che c'è una grave responsabilità da parte dell'amministrazione comunale, perché gli uffici tecnici, in particolar modo, e lo ripeto per l'ennesima volta, l'ufficio manomissioni del suolo, dovrebbero andare a fare i controlli e richiamare all'ordine le ditte, l'acquedotto pugliese, le ditte ovviamente che fanno i lavori per conto degli enti, come l'acquedotto pugliese. E quindi richiamare l'acquedotto pugliese alle sue responsabilità, cioè richiamarlo e dire, caro acquedotto pugliese o caro Enel o qualsiasi altro ente o quelli della fibra, venite e ripristinate a regola d'arte, secondo le normative, non con la leccata di asfalto. E poi vediamo il consigliere comunale Lucio Lonoccio, Lucio ti voglio bene, però perdonami, tu ti fai i selfie, ti pavoneggi, questo ha fatto l'acquedotto pugliese, questo di qua, questo di là e fatti anche i selfie davanti a questi scempi che sono stati lasciati a Talzano dall'acquedotto pugliese. Ma purtroppo il problema è questo, abbiamo un'amministrazione comunale poltronara che pensa soltanto a stare col culo sulla poltrona, a difendere quella poltrona e mi riferisco a tutta la maggioranza. E non abbiamo un'amministrazione comunale che gira per la città, che gira. Allora l'assessore ai lavori pubblici, Ciraci, dovrebbe girare e contemporaneamente dovrebbe andare presso gli uffici tecnici e stimolare, prendere per l'orecchio, tra virgolette, gli uffici tecnici e dire signori cari, sollevate il culetto dalla sedia e andate a fare le verifiche in loco per vedere questa azienda, questa ditta ha fatto il lavoro bene, come l'ha fatto? Allora ci deve essere la sorveglianza, ci deve essere il controllo da parte dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici tecnici, cosa che a Taranto non esiste. E gli enti e le ditte a Taranto fanno i cazzi propri, fanno i cazzi propri e invece l'amministrazione Melucci non controlla e non controllano, come detto, neppure gli uffici tecnici perché è molto più comodo stare belli seduti sulla sedia davanti alla scrivania e davanti al pc piuttosto che girare la città come faccio io sotto al caldo e al freddo, sotto il sole e sotto la pioggia.